sciopero al Corriere della Sera cari amici sciopero al Corriere della Sera vedete che quando io tocco un argomento poi succede qualcosa di importante perché proprio ieri io avevo dedicato un video al Corriere della Sera perché il Corriere della Sera aveva celebrato 500.000 abbonamenti online sì, io ieri mi ero dedicato al Corriere della Sera avevo pubblicato sul web un video che io ho dedicato al Corriere della Sera perché il Corriere della Sera ieri aveva celebrato i 500.000 abbonamenti online se non che io però ieri avevo notato che se il Corriere della Sera cresce online decresce nel cartaceo, cioè nelle edicole avevo notato queste cose e avevo detto che il Corriere della Sera può crescere nelle copie cartacee che si vendono nelle edicole solo se si rivolge a pregiati youtuber a pregiati scrittori come Serafino Massoni Serafino Massoni è questo qua eccolo qua Serafino Massoni guardate è questa la stella di Davide perché dove c'è Serafino Massoni c'è anche la stella di Davide lo vedete chi è Serafino Massoni? beh ciò che io tocco si trasforma in oro ciò che io tocco si trasforma in oro io ti pubblico su web un video dedicato al Corriere della Sera dicendo Corriere della Sera è inutile che canti perché hai raggiunto 500.000 abbonamenti online perché gli abbonamenti online costano 4 soldi 4 soldi non si deve crescere negli abbonamenti online si deve crescere semmai nelle vendite nella vendita nella tiratura delle copie cartacee che si vendono nelle tivole e si vede che questo mio video dedicato al Corriere della Sera ha raggiunto la redazione del Corriere della Sera che è entrata in eccitazione è entrata in eccitazione e ha programmato uno sciopero perché la redazione del Corriere della Sera chiede al padrone al padrone all'editore all'azionista di maggioranza che è il potentissimo Urbano Cairo che chiede un premio un premio per il fatto che sono stati raggiunti 500 abbonamenti online e il redatore risponde che si deve tenere presente il contesto del mercato perché Urbano Cairo le misura le parole bisogna sapere leggere 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 se la Fino Massone è capace di leggere tra le righe e Urbano Cairo ha detto sì dice non ci stanno i quadrini per dare un premio un premio ai bravi redatori perché è stata comprata la sede di via Solferino e poi c'è il contesto del mercato il contesto del mercato che fa che fa il contesto lo dice non oltre sera Fino Massoni questo il contesto del mercato vedete crescere le vendite cartacee le vendite cartacee sì Corriere della Sera resta sempre il primo dal cartaceo è sempre il primo in Italia però continua a calare continua a calare per cui Urbano Cairo dice non ci stanno i quadrini per dare un premio ai bravi redatori per via dei 500.000 abbonamenti online e avrà detto avrà detto non l'ha scritto ma l'avrà detto Urbano Cairo che un abbonamento online costa poco 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 e allora io qua torno a evidenziare a evidenziare torno a evidenziare a Corriere della Sera alla redazione Corriere della Sera all'editore Urbano Cairo che si devono acquisire nuove firme Urbano Cairo nuove firme per Corriere della Sera nuove firme che facciano crescere le copie cartacee quelle che si vendono nelle edicole Urbano Cairo si faccia ricorso alla penna alla penna di Serafino Massoni Urbano Cairo la penna di Serafino Massoni guarda qua Urbano Cairo leggi Urbano Cairo questa nota bio bibliografica relativa a Serafino Massoni c'è da leccarsi i baffi Urbano Cairo guarda qua le opere pubblicate da Serafino Massoni c'è pure un'opera pubblicata a Londra da Olympia Publisher guarda è un romanzo storico The Art of the Rosemann e questa Urbano Cairo è l'ultima opera di Serafino Massoni Urbano Cairo la cometa dell'imperatore un romanzo storico ambientato tra il 1200 e il 1250 dopo Cristo ai tempi del grande imperatore Federico II di Svevia Hohenstaufen Altavilla imperatore del Sacro Impero Romano Germanico e quando fu Federico II di Svevia imperatore del Sacro Impero Romano Germanico la capitale del Sacro Impero Romano Germanico stava a Palermo è capito a Palermo qua si parla delle crociate crociate si parla dei mongoli che allora venivano chiamati tartari mongoli Gengis Khan nelle preghiere si pregava libera 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 nos domine a furore tartaroro delle grandi eresie dell'epoca delle grandi del capito Urbano Cairo attingere da nuove penne da nuove penne attingi Urbano Cairo dalla penna di Serafino Massoni eccolo qua senti Urbano Cairo fai la pace con la redazione fai la pace digli alla redazione Urbano Cairo digli alla redazione che ti accinge a prendere come penna come penna quella di Serafino Massoni e fate una festa insieme una festa che siamo sotto il santo natale Urbano Cairo a te Urbano Cairo alla redazione del Corriere della Sera a via Solferino e a tutti voi tanti cari saluti da la cometa dell'imperatore a un'imperatore e a a a a a a